Ciao ad Andrea di Estelloso, bravissimo video solo per te che sei iscritto al mio canale e alla mia newsletter ti faccio vedere alcune offerte di Tiscali, di Sky e di Linken per qualsiasi problema tuo di connessione, di internet, di wifi, di bollette pazze, di doppie bollette non fare altro che mandarmi un messaggio, un contatto e io ti rispondo subito Ciao ad Andrea di Estelloso, ciao ciao Sky Wi-Fi in offerta 24,90€ senza vincoli con un modem super potente, questo è quello che io ho a casa mia se hai la casa grande Sky Wi-Fi è perfetto perché ti dà 3 pods, 3 punti, Wi-Fi in tutta la casa ecco questi sono i 3 pods, Lab più 2 pods se invece non sei raggiunta dalla fibra ottica, dalla FTTH, Linken è un'ottima soluzione 19,90€ per i primi 6 mesi e poi 26,90€, installazione velocissima, 1-2 giorni hai la linea a casa tua ti faccio vedere il modem, è il modem indoor di Linken, ok mentre questo è a borda, mettere sulla balcone di casa e questo qua dentro casa e questo è un mio piccolo archivio di modem vecchi 70GB, 5,99€ per i primi 3 mesi, poi 7,99€ la mia assistenza gratuita e poi ci faccio vedere il modem e poi ci faccio vedere il modem e poi ci faccio vedere il modem